Abbiamo presentato oggi una ricerca importante analizzando il peso economico e sociale delle malattie rare e dei tumori rari, analizzando i dati provenienti dalla banca dati IMSS e anche confrontandoli con i dati di costi diretti sanitari. Per quanto riguarda il periodo analizzato nei sei anni di analisi abbiamo visto che le malattie rare insieme ai tumori rari impattano sui conti del sistema previdenziale in termini di assegni ordinari di invalidità e pensione di inabilità per circa 600 milioni di euro, quindi parliamo di circa 100 milioni di euro all'anno. Stiamo parlando di più di 6.000 malattie che solo in Europa interessano 30 milioni di persone, pertanto non è più una questione di pochi, anche se le malattie di per sé sono rare, ma è un fenomeno che deve essere preso a carico dal sistema sanitario nazionale. Abbiamo necessità di difendere il servizio sanitario nazionale che è una grande conquista di questo paese, compie 40 anni, ha bisogno di una manutenzione, ma ha bisogno anche di un cambio di paradigma. Finora abbiamo sempre pensato alla salute come una spesa, come un consumo, come sempre un fatto negativo, invece in realtà la salute è un grande investimento che facciamo per noi stessi. C'è davvero la volontà di andare incontro a un concetto fondamentale che è quello della prevenzione e della presa in carico tempestiva, che questo credo sia davvero il momento cruciale per portare avanti questo importantissimo progetto nei confronti delle malattie rare, che non dobbiamo lasciarci ingannare dal termine rare, sono rare ma sono tante. Abbiamo promosso questo incontro di oggi per dare voce ai 2 milioni di malati affetti da patologie rare e alle loro famiglie. Sul tema delle malattie rare sono stati fatti negli anni diversi interventi normativi, è stato fatto molto, soprattutto su un diritto sacrosanto dei bambini italiani, che è quello dello screening neonatale allargato, quindi per arrivare subito a una diagnosi di malattia rara. Deve essere fatto ancora molto, soprattutto sul tema della presa in carico. Non è pensabile che da un primo sintomo fino ad arrivare ad una diagnosi passi molto tempo, a volte diversi anni. Questo significa condannare una persona ad una sicura disabilità.